I sindacati di polizia penitenziaria oggi all'Aquila sono scesi in piazza dinanzi alla regione per denunciare una situazione ormai giunta al collasso con una carenza organica di 250 poliziotti penitenziari negli istituti abruzzesi. Situazioni di disagio ormai quotidiane per gli agenti, denunciano i sindacati con carichi di lavoro eccessivi, prestazione obbligatoria di straordinario, continui richiami in servizio, comuni di ferie, vittime spesso di aggressioni, istituti con carenze strutturali. Giuseppe Nino, segretario regionale Sappe, ha spiegato le ragioni della protesta con un appello indirizzato al governatore Marsilio affinché si faccia portavoce presso il governo nazionale delle loro istanze, con lui segretari di OSAP Nicola Di Felice, di Wilpa Ruggero Di Giovanni, di USP Sabino Petrongolo, della Cisla Antonello Ghizzoni, della CGL Giuseppe Merola e Davide Riggi per la sigla CNPP. L'Abruzzo rispecchia tutto il territorio nazionale, probabilmente rispetto a tante altre regioni stiamo ancora molto molto peggio. La principale diciamo causa è sicuramente l'organico che non ci permette di portare avanti il mandato istituzionale. Le aggressioni come può vedere dalla maglia sono all'ordine del giorno, cioè giornalmente noi ci alziamo e la cronaca purtroppo parla di queste aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria. Questo va a minare un po' proprio la sicurezza poi degli istituti penitenziari che hanno anche delle carenze strutturali, dei problemi negli edifici. Sì sicuramente, poi se aggiungiamo anche le carenze strutturali è notte fonda, cioè siamo arrivati a un punto di non ritorno, cioè il governo, lo Stato deve decidere che vuol fare del sistema penitenziario. Ecco voi ovviamente chiedete interventi diretti al governo nazionale, per oggi siete qui in regione perché sostanzialmente al governatore Marsilio che cosa chiedete? Chiediamo un intervento deciso, determinante e risolutivo, non le chiacchiere, cioè le chiacchiere le facciamo tutti, tutti siamo allenatori visto che stiamo in tema di campionati europei e il governatore deve dare un segnale forte per gli istituti abruzzesi.